Parliamo del progetto Alzheimer promosso dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Quali sono i risultati di questi tre anni di progetto? I risultati sono incoraggianti ed eclatanti per quanto riguarda le persone che sono state coinvolte dagli obiettivi del progetto. 3.000 interviste telefoniche, 687 sono stati colloqui personali che sono stati eseguiti. Si parla solo e esclusivamente della parte legata agli interventi nella provincia di Padova. Altre iniziative sono state fatte anche presso l'USL di 18 e 19 di Adria e Rovigo. Tutto questo serve e servirà ovviamente a realizzare percorsi formativi per i care givers, e cioè tutto quell'ampio parco di professionisti e di persone anche non professionisti che si rivolgono quotidianamente e costantemente al malato di demenza. Quali le prospettive future riguardo questo progetto? Le prospettive future devono sicuramente coinvolgere nuovamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo nella elaborazione dei dati e di ipotizzare un proseguimento al sostentamento del progetto. Grazie. 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 Grazie.